Buonasera, ben ritrovati a Sette Sera. Dedichiamo questa prima parte del nostro programma a tutti coloro che purtroppo non sono in grado di muoversi liberamente all'interno della propria casa per varie ragioni legate a problematiche di salute oppure semplicemente all'età, queste persone che hanno bisogno continuamente dell'ausilio, dell'aiuto di qualcuno, di parenti oppure personale qualificato, ma per loro c'è una soluzione in grado di ridare più autonomia e anche migliorare la qualità della loro vita. Ne parliamo con i nostri ospiti che vi presento, Emanuela Marcolin, Sales Manager Stanna Italia, ben trovata. Grazie, buonasera. Buonasera. E Carlo Agnesi, consulente commerciale di Stanna, ben trovato, buonasera. Buonasera, grazie. Allora Emanuela, parlavamo di questa soluzione. Sì. Qual è questa soluzione? Allora, oggi tutti noi abbiamo una grandissima opportunità che è quella di abbattere le barriere architettoniche all'interno delle nostre abitazioni e qui ci tengo a sottolinearlo non abitazioni private o meglio non solo abitazioni private ma case private e condomini. E questa è una grande opportunità perché possiamo ritrovare la nostra autonomia, la nostra libertà e anche la nostra dignità. Libertà perché non dobbiamo più sentirci prigionieri delle mura di casa ma ci possiamo permettere di scegliere e credo che oggi scegliere sia la cosa più importante, scegliere di uscire di casa, scegliere di incontrare persone, amici, perché le scale non rappresentano più un problema. Installare un montascale fondamentalmente significa solo creare una rotaia fatta a misura e una poltroncina che ci consente in totale libertà di salire e scendere ogni volta che vogliamo. Prima ho parlato di dignità. Perché è dignità? Perché molto spesso le persone rinunciano alla propria libertà, ai propri spazi, spazi nei quali hanno vissuto per anni e anni perché non riescono più a raggiungere le camere al piano superiore o il bagno. Oggi non esiste più questa situazione, la possiamo risolvere attraverso l'installazione di questi ausili che sono veramente semplici e ci permettono di raggiungere tanto. Sì, perché l'installazione di un montascale è sì una soluzione molto pratica, utile, ma che ha delle ripercursioni importantissime a livello psicologico. Il fatto di potersi spostare liberamente da una stanza all'altra, da un piano all'altro, migliora notevolmente la qualità della vita di una persona che purtroppo è costretta a rimanere magari a casa. La nostra esperienza ci insegna proprio che una volta che le persone che ci hanno scelto, i clienti che ci hanno scelto, hanno risolto il problema delle scale, hanno cambiato positivamente la propria vita e il proprio stato, proprio perché sono ritornate a fare quelle cose che prima non potevano più fare o meglio non sapevano di poter fare. Quindi è importante concederci la possibilità di essere autonomi e liberi il più possibile. Ecco, va detto anche che la scelta del montascale offre delle opportunità anche a livello finanziario, vero Carlo? Sì, esatto. Diciamo che col passare del tempo è aumentata anche la sensibilità da parte delle istituzioni verso chi ha delle difficoltà e quindi ha necessità di abbattere le barriere architettoniche. Per cui esistono oggi varie vie per recuperare parte dell'investimento sul montascale. Quali sono queste vie? Esiste una legge, la legge 13 del 1989, che prevede per chi ha un'invalidità un contributo sostanzioso, anche un rimborso, un rimborso spese. C'è anche la possibilità di mandare in detrazione questi investimenti o valutandoli, considerandoli come spese mediche, oppure adesso sono anche considerati al pari di una ristrutturazione edilizia, quindi le forti agevolazioni che ci sono oggi in questo campo possono essere applicate anche su questi impianti. C'è la possibilità di ricevere anche un rimborso? Esatto, c'è un rimborso che ogni regione dà nelle modalità proprie, con delle tempistiche proprie, però è previsto un aiuto in questo senso. Perché comunque sono ausili abbastanza importanti e investimenti importanti anche se valutiamo che in molti casi ci sono dei condomini addirittura che non potendo realizzare degli ascensori devono rivolgersi a noi per questo tipo di impianti, quindi impianti che arrivano al quarto o quinto piano, quindi non solo le piccole rampe delle case, diciamo, di privati. Ecco, proprio di questo volevo parlare, perché prima di installare un montascale magari ci sono delle cose a cui prestare maggiormente attenzione. Quali sono? Sì, beh, allora, oggi come oggi gli impianti montascale, grazie anche al grande studio, la grande ricerca che c'è su questi impianti, possono essere realizzati praticamente su qualsiasi tipo di scala. Diciamo che dagli anni 70, quando è stata inventata la poltroncina montascale, ad oggi di passi ne abbiamo fatti tanti e quindi di anno in anno riusciamo a risolvere situazioni sempre più difficili per quanto riguarda anche proprio gli ingombri, le tipologie di scale. Quindi oggi possiamo risolvere i problemi su qualsiasi tipo di scala e soprattutto anche in situazioni complesse come possono essere quelle dei condomini. Abbiamo molte situazioni di palazzine degli anni 60-70 che non prevedono l'ascensore o la possibilità di un'installazione di un ascensore, oppure nei centri storici dove per via di vincoli delle belle arti non si possono fare delle modifiche. Quindi il vantaggio è che oggi, già rispetto anche a una decina d'anni fa, riusciamo ad andare ad aiutare persone in diverse situazioni. Emanuela, l'acquisto di un montascale può essere fatto anche in situazioni meno complesse e meno gravi dal punto di vista proprio della salute di una persona? Anzi, converrebbe? Questa è una domanda bellissima perché l'acquisto del montascale aumenta il valore dell'investimento se decido di installarlo quando posso usarlo in totale autonomia. E quindi vale ancora di più perché mi consente di entrare e uscire da casa mia o muovermi negli spazi della mia casa sempre autonomamente. Quando le condizioni di salute peggiorano diventa uno strumento davvero utile, importante, però logicamente non mi ridà al 100% la mia autonomia. Quindi prima decido di installarlo, maggiore sarà il valore dell'investimento. Bene, abbiamo parlato di sicurezza, di facilità d'uso ma anche di qualità. È importante affidarsi a qualcuno esperto? Anche questa è una domanda veramente molto bella. Oggi scegliere l'azienda che ti fornisce il montascale è veramente importante perché non ci deve essere solo una qualità di prodotto ma ci deve essere anche una qualità nei valori che hanno le persone che lavorano all'interno di questa azienda. Stan è in grado di offrirti tutto questo. Persone che credono e curano il cliente e i bisogni del cliente. Quindi scegliere oggi è veramente importante. Volete aggiungere qualcosa Carlo? Sì, una cosa ugualmente importante è che i montascali sono delle piccole macchinine per intenderci, per cui è anche importante il servizio che viene dato. Sono impianti che non hanno l'obbligo della manutenzione, però ovviamente se vengono tenuti con cura e con attenzione hanno una durata prolungata nel tempo. Abbiamo impianti su cui facciamo manutenzione dei primi impianti di una ventina d'anni fa. Quindi è importante anche il servizio, la prontezza di intervento qualora ci fosse bisogno di un'uscita perché il montascale si è fermato. Quindi qualità aggiungerai anche unita al servizio, alla prontezza, alla disponibilità. Per questo è importante affidarsi a un'azienda esperta e qualificata. Io vi ringrazio per essere stati qui, tornate a trovarci. Grazie per averci seguito. Noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Grazie.